Ciao ragazzi, adesso sono le 10.28 come possiamo vedere, aiuto! Allora, ci dobbiamo preparare per domani, io ovviamente ho già tutto pronto, allora vi spiego. Domani mattina mi soglioro alle 6 e partirò alle 6.10, 6.15. Allora, non so se domani mattina riesco a registrare il video, mentre parto da casa o che mi preparo. Allora, speriamo di domani prendere un big, perché per quello decidiamo quell'ora. E allora, una cosa fondamentale, speriamo di prendere un russo o un biancone, che è una cosa che vogliamo. E allora, ho già preparato le haring, poi prendo anche un po' di pellet domani mattina. E noi ci vediamo domani mattina con una bellissima pesca, ciao! Ecco ragazzi, corra, che ha già preso qualche storione, sembra anche bello. Cosa ne dici? Mi sta facendo un po' il culo. Perché ti mette la GoPro? Se riesci. Vediamo. Quindi vedi, povero. Aspetta che... Aspetta che si è in posizione. Boom! Ecco raga, corrado che prende già uno storione. Ti ho portato fortuna, eh! Eh, già da quando sono arrivato che è qua sotto. Figa! Cioè, ormai è in 0,50. No, no, 0,60 alla fine. È una madonna, che bolle fa! È il big day della mattina. Preparati. Finsa che non gli manca molto. L'intra vista era grosso. Dio caro! Non sono più abituato. Questo sento che è grosso. Se era un golden magari era già stanco. Questo è il cazzo. È un biancone. Ti immagini, magari è anche un russo. Hai preso un russo, io... Diego tutto, me ne vado. Non so che te ne puoi togliere la mascherina. Sì. Ah, raga, questa è una bella battaglia, Dio caro. Draghi sono fermo da un po'. No, ragazzi, lo ammette. È fermo da un botto di tempo. Come la goto, pesante? No, è strana da tenersù. Più col cappello. Porca troia! Hai intravisto? Non hai visto? No. Ho visto solo le bolle e basta. Cioè, se era un russo, le facciamo molto più grandi le bolle. Dipende. O è in bianco o un russo. Lui viene a casa con me, non te ne puoi andare. Guarda, se fai il bravo non ti facciamo niente. Se fai il cattivo ti portiamo a casa e ti smaceliamo. Edi, non è stanco. No, vabbè, ma guarda... Questo è grosso, Dio caro. Io solo che non posso ributtare, sennò rischiamo... Non si sa di sì. Non si sa. Mi sa di sì. Mi è andato di colpo il pipotto. E così già da mezz'ora. Eh, ho visto. Siamo da qui che vi guardiamo. Aiii. Pomp. Ingula mamma, tigor. Come si dice a casa mia. Ingula mamma. Guarda che niente parolacce, sennò mi vanno nel video. Eh, le censure. No, non so, non sono ancora arrivato a quel livello. No, no, proprio era così anche all'inizio. Veniva a riva, poi ripartiva là. Veniva a riva, poi ripartiva. Igor. No, sarà anche un russo. Dov'è il bastardello, dai. Dov'è il bastardello. Guarda, se è più giusto, ti giuro. Smonto tutto e me ne vado. Dopo questo mi è andato anche io, non sono più abituato, tia. Dopo che mi sveglio ancora le 6 di mattina, eh. E io sto morendo di caldo. Si può morire di caldo. Ah. Questa figa mi sta facendo il culo. Mi sa mangiato. Mi sa mangiato. Per com'è. Per com'è. Perché non ho le braccia di mio padre. Le braccia di mio padre. Ho capito, mi sono più fatti di mamma. Eh, mi sa di sì. Chiama tuo papà. Ogni ragazzi. Allora, che cazzo dì. Va che arriva. Ok. Proviamo la canna. Porco di gazze. Che becce è. Io l'ho già intravisto, eh. Anch'io. Che la pinna c'è una roba così, eh. Sì, io ho vista la pinna, una roba così, vuoi che ti sposta per sicurezza la casa, spero, Igor, qua, bello cazzo, bello, ciao, tranquillato, no, è un bel giampone, Puglio, lo piglio, quando arriva qua, eh, tira sulla manica, Cazzo se si muore di palaggio, cazzo è il russo, no, bianco, bianco, Ma perché non mi hanno dato questo dono di bianchi, cazzo, bianco, mangiato, no, rampinato, Puttana, il biancone, no, intesa, Igor, Mi sembra che adesso è mangiato, vedo il filo davanti, Vai, prendilo, prendilo, veloce, tiralo fuori, Ti va che bel biancone, Oh, tiralo più indietro, Igor, Ti hanno girato, se dici, Eh, sentiva che non era piccolo, fidati, No, è bello, è bellissimo, Questo qua è un 20 kg, Lecce girarlo? Eh, Minca, adesso posso spararmi una sega dopo questo, dopo, Seconda pescata che... E quella lì ci sta lavorando dietro, Senti che te la smetto, Ah, Passa che, me lo faccio vedere, Corra, Tanto adesso faccio la foto, Corrado, fagliela vedere alla telecamera, Aspetta, Ma stai calmo, biancone, No, puoi accrozzarlo qua, Puoi far così, Aspetta che intanto io metto l'esca, Mamma, che schifo, Ti giuro, Se non prendo adesso io un biancone, Posso farle, Amore, mi fai fare la foto? Spegnila, gopro, Spegnila, spegnila, Aspetta, Eh, La foto, Come cazzo si spegne, Porca te, Ecco ragazzi, Uno storione, Piccolo, Bene, Sì, sì, Grazie, Ecco ragazzi, Un altro storione, Eh sì, Parti in mezzo al lago, Mi raccomando, Bianco, Bianco, Un altro storione, 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 Sì Alpionato Quanto odi ragazzi Alpionare di storioni Madonna Vabbè Mi ha spaventato tutto il lavoro No raga mi sa che mi ha rotto l'amo Non mi sa Mi sa che mi ha rotto Proprio l'amo Mi ha rotto l'amo No Dimmi no Sì raga Mi ha rotto l'amo Se se Mi ha rotto l'amo Ricordisco tutto Ci vediamo dopo Ecco ragazzi Un altro Doi E Vabbè Niente storione ragazzi Vabbè 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 Vabbè